Per me non sa che al Plae, però il Plae la parlerai se non è proprio. Per me non sa che al Plae, per me non sa che al Plae. La torradora espanesa, esmarca l'emmarcador, direttamente il 215, la presenza francesa, pubblicità francesa, l'unico, 167. Abbiamo visto che la torradora fuori l'anteriore, con il 211, la torradora con i ricordi si è campeppato il soldato il comune